In questi giorni ho parlato con tanti amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri, tanti rappresentanti del territorio e mi chiedevano del bilancio della Regione Abruzzo, del primo bilancio Marsilio. Sinceramente non sapevo cosa rispondere, poiché in questo bilancio non si vede un progetto, una prospettiva, un progetto vero circa le esigenze della nostra Regione, sia sul documento economico e finanziario, sia sulla legge di stabilità, sulla legge di bilancio, sulla finanziaria stessa. Non abbiamo nessun riferimento, per esempio, alle aree cratere, a chi ha sofferto il terremoto nel 2009, ma soprattutto nel 2016 e 2017, sui 23 comuni del cratere. Non abbiamo visto nulla circa le risorse umane da potenziare. Abbiamo i nostri dipartimenti regionali con sempre meno risorse umane a disposizione e soprattutto non vediamo investimenti per i prossimi anni. Così come non abbiamo visto nulla per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. E poi le vicende che trasciniamo ovviamente da anni, alle quali l'attuale Giunta doveva dare una risposta. E mi riferisco soprattutto all'assessore Febbo, che in questi anni ha gridato fortemente per trovare una soluzione al Ciapi, per esempio, per trovare una soluzione ai centri di ricerca in agricoltura. Quest'anno, per il CRUA, che è il centro regionale unico per la ricerca in agricoltura, questo bilancio prevede zero. Così come per le tante emergenze, come quella dell'erosione costiera. Per il 2020 si è previsto solo 750 mila euro per tutti i comuni della costa abruzzese. E sappiamo tutti l'importanza del turismo, del settore turistico, degli operatori balneari, dei tanti comuni che combattono quotidianamente l'erosione costiera. Su questi temi non c'è nessuna risposta in questa sessione di bilancio. E poi un tema fondamentale per l'economia della nostra regione, la fauna selvatica. Il contrasto alla fauna selvatica, per cercare di tutelare le produzioni agricole, così come i cittadini residenti soprattutto nelle aree interne e gli automobilisti. Quest'anno hanno stanziato meno degli anni precedenti. Noi in media stanziavamo 750 mila euro ogni anno, quest'anno solo 690 mila euro. Le tante attese dei cittadini abruzzesi sono state tradite da questo primo bilancio della Giunta Marsilio e di tutto il centrodestra regionale.